Speriamo che vi sia piaciuto questo episodio È stato davvero carino fare tutti questi giochini Alcuni difficilissimi Anche se hai sclerato tutto il video Non è vero Cioè io lo dico Mi sono divertito molto Hai fatto il pazzo tutto il video Non ti sei divertito No mi sono divertito molto Stavi sclerando e volevi abbandonarmi Non ho fatto il pazzo Lo stai facendo adesso? Non è vero Non è vero Sono calmino Tranquillino E felicino E ragazzi come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef E che si chiama Octodead E siamo tornati in questo fantastico giochino Il primo episodio vi è piaciuto tanto L'avete apprezzato E quindi noi siamo felicissimi di continuare Approvato dai consolini direi Ovviamente Ovviamente Qualsiasi cosa approvata dai consolini Noi la continuiamo Esatto Comunque siamo con il nostro Octodead Come vi ricordate Dobbiamo finire di fare la nostra spesa Ma c'è un problema Perché adesso dobbiamo cercare la mela perfetta E siamo in una zona altamente scivolosa E con i nostri tentacoli Non è l'ideale Come sempre non dobbiamo farci notare Quindi non vorrei scivolare in troppe banane Cioè guardalo Non sta più fermo Continua a scivolare così Questa è pattinaggio sul ghiaccio Guardala Potrebbe farlo Sarebbe bravissimo Sarebbe campione mondiale Esatto Vincerebbe subito una medaglia Allora Aspetta No No scusi Scusi Tutto a posto Tutto a posto Sono solo felice di comprare una bellissima mela Cosa vuole che sia Vuole questa mela signore? E' più bella di quella arancione Esatto Tenga Si è arrabbiato Scusi Scusi Guarda la faccia offesissima Mi prendo la mia mela e me ne vado Ok 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 Tutto a posto Piano 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 Oh no Hai rotto pure uno scafato No no Oh che belli questi occhiali Aspetta Aspetta Non rubarli Aspetta un attimo Ma mica li sto rubando Li sto prendendo in prestito Opla Ciao bella Che belli che siamo super alla moda Come stai? Che belli Ti piaccio? E faccio le mosse con i miei piedi Sono pronta a fare festa Uh ma c'è del sushi C'è qualcuno lì dietro Lo vedi qualcuno che respira dietro le scatole? Cosa vuole? Credo sia quello lì degli gnomi che tu hai sconfitto Lo chef Lo chef che sa che siamo dei polpi? Guarda vediamo No infatti chiude le porte Eccolo Ti traslano i sushi a pezzo moderato No 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 Prezzo moderato no guarda No Extra lusso va bene Esatto esatto Al massimo molto più caro Aiuto Perché noi siamo un polpo pregiato Esatto Aiuto Ci sono anche le banane Ma non è possibile Pulisci Pulisci Sì vabbè Non ci riesco Ok 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 No 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 ce l'hai fatta Corri 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 E che ansia Ma perché siamo costantemente attaccati Per essere dei polpi? Perché? Perché ci vogliono rendere un sushi Mi sembra normale E poi abbiamo questi bellissimi occhiali da sole No secondo me era geloso degli occhiali da sole Che creano invidia Cioè ha detto sì li voglio anche io Ciao mogliettina Ci stavamo preoccupando E perché mai? Si sembra a fare qualcosa di strano Noi qualcosa di strano No 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 Ti sbagli Ci siamo anche comprati dei bellissimi occhiali da sole Esatto Esatto Gradirei una risposta E facciamo un borbottio Posso venire anche io? Vai Giochiamo Titti Titti Stai rovinando la canzone di Stesi Allora aspetta e voglio vedere se si sente davvero Cuffietta Cuffiettina Si sta davvero suonando Però fa solo due note Quindi dobbiamo aiutarla E allora vai ci vuole il papà Che deve fare la super canzone qua Giustamente Che famiglia allegra Possiamo andare anche su un lotto volante o qualsiasi cosa sia Guarda che bella famiglia Adesso vado a vedere Aspetta Scusa Stesi Allora il papà Ciao Tommy Vuole salire su questa bellissima astronave Lasciamo perdere No no ce la posso fare Dici Ci siamo Ciao Tommy Ti stai divertendo? Anche noi È molto divertente Torniamo alle cose serie Dobbiamo Cosa dobbiamo fare Cioè dobbiamo passarla a noi nella cassa automatica No Non me la sento No Cioè non è possibile Non me la sento Pronto per tutto questo Allora Allora Mela Non ci arriva Sì 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 vai Ok Bravissimo Sai fare anche Anche la spesa Guarda E certo Mi sembra normale Sono un papà modello So fare anche la spesa Lo so Eccoci Super felici Adesso che abbiamo fatto la spesa È l'ora di andare Te l'ho detto Era una trappola Guardalo No noi non ci andiamo all'acquario Io nel primo episodio l'ho detto che era una trappola È un po' maleducato Ecco qua Ecco qua E litigano No non litigate No non litigate Guarda come è terrorizzato Povero il nostro Octo Dai su Stai tranquillo È tutto a posto È tutto a posto Nessuno ti farà del male Ok Non ci crede molto Stai iniziando a tremare Capito Vabbè Dai andiamo Prendi il cupone da Scarlett Grazie Grazie Sei molto gentile Riscatta il biglietto all'ingresso Come possiamo andare all'ingresso In mezzo a Ecco Ecco qua Allora piano Sì Piano Tranquilla Guarda qua Bravissimi Eh vabbè Posso superarla? Siamo superate la fila Sì dai Ascolta Supera tutti Ok Piano Ok 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 Grazie Grazie Tocca a me Giusto? Sì Sì Sei arrivato Prima di loro Ho fatto un sacco di fila Buongiorno Ma questa non è la signora del market Che abbiamo rubato i cereali E lei Sì E lei abbiamo pure rubato la fila La fila La fila La fila Ma come mi è uscita la fila? Allora andiamo Arrivederci Grazie Allora Passa Cosa dobbiamo fare? Per la porta girevole C'è odore di pesce nell'aria No No Allora I biologi marini riconoscono un pesce quando ne vedono uno Ah ho capito perché nessuno lo riconosce perché non sono biologi marini Certo Ora ha senso Ha senso questo gioco Ci stava già notando Sei pazzo Allora entra nel negozio Ascoltami Entra nel negozio Fai finta di guardare i pupazzi senza buttare giù tutto Ok Che pedili? Passi per la porta girevole Ma voglio comprarmi qualcosa No non puoi comprare nulla Ok Dobbiamo evitare i biologi in questo momento Capito? Quindi tu fai finta di guardare i pupazzi Passi lì dietro e non ti vedono Che stai facendo? C'è un cappello da indossare Ma perché devi rubare un cappello? No c'è scritto free Ah Quindi è gratis Quindi aspetta che io voglio Magari così ti confondi con le persone che visitano Ok Esatto Cosa c'è dentro la bocca dello squalo? C'è qualcosa che si delicica Ah Andiamo a vedere un pochettino cosa ci offre questo acquario Mi sento come quando sono andato all'acquario di Genova E uguale 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 Io ci sono mai stata Quindi non posso capire la tua sensazione No Ma te è troppo figo Devi andarci Allora Amazon Arcade Cos'è? È un negozio? Andiamo a vederlo Ah ma questa è una sala giochi Allora qua siamo tranquilli Così almeno Non abbiamo paura di niente di nessuno Andiamo a parlare con la nostra mogliettina Che non so perché sia venuta proprio qua in un acquario Ok Devo chiapare qua Ci posso riuscire? Ci posso riuscire? Ta Ta Secondo te ci siamo? Sì Sì a voglia Vai Acchiappalo Io stavo mirando totalmente un altro Sappilo Lo so Non so Me ne sono accorta Me ne sono accorta Ok E uno è preso Allora aspetta che ritiriamo il primo Ma che bellino Che cos'è? Non voglio per me questo Non lo voglio dare a Scarlett No dobbiamo darlo alla nostra mogliettina Mogliettina Guarda abbiamo preso un regalo per te Sei contenta? Sembrerebbe Sembrerebbe contenta Ok Ok Adesso invece che acchiappa il pesce Acchiappa Cioè invece che acchiappa la ta Ci siamo capiti Invece che acchiappa la talpa Facciamo acchiappa il pesce Grazie Perfetto Vai Meno male che parli al posto mio Come faccio? Non lo so No ragazzi per questo non sono No aspetta lo stai facendo Uno? Eh sì Uno Hai detto bene Devi fare quattro penso Vedi perché c'è get four Mi sta avendo un nervoso Due Che due? Dai ce la puoi fare Dai Ce la puoi fare Tre Quattro Cinque Ce l'ho fatta? Bravo Bravo Grazie sono un polpo perfetto Allora andiamo Molla questo che non ci serve Che cos'è questa? Un anguilla? Eh sì ho un serpente marino Qualcosa Ho cliccato Il macchinario per sbaglio Fai finta di nulla E porta il premio Esatto Mogliettina Un altro dono per te Non so dove te lo tieni E butta l'altro Maleducata Li sta buttando tutti Ma almeno appoggiali nella sedia Ma io con tanta cura Sono andato lì a fare i giochi Per darti i premi E mi li butti a terra Eh vabbè non so dove metterli Sono molto grandi Che ti devo dire E questo? Come si fa? Secondo me è così Ah e più forte lo fai Quindi se diventi un anaconda Riesce a prendere il premio Ma questa è divertentissima Ed è super difficile poi Guardalo come gioca a serio È super realistico Yeah Ok basta Va fare un punto Ottimo Ottimo Mi sembra normale Era imbattibile sto qua E questo è l'ultimo Oh c'è una perdita Io ho le mani piene Cosa sta succedendo? Chi dice di andare invece al sistema E' quella Blocca le perdite d'acqua Ma perché dobbiamo farlo noi? Dovrebbero farlo gli addetti all'acquario Magari Non ha parole Noi non siamo addetti all'acquario Porti sette peluche A tua moglie E ti manda a fare il lavoro altrui Allora Come dovrei fare per di più? Non capisco Ah Ah ok Ok No È peggiorata la situazione Sei pieno di pesce attaccato? Aia Ti ha ritirato in testa Tutti i regali che le hai dato Perché secondo me Per tappare i buchi Eh l'ho capito Ma Cioè non vorrei dire Ti sta ritirando in testa I pupazzi che le hai regalato Io ti ho detto che non li ho apprezzati Eh l'ho notato Allora Dobbiamo salvare l'acquario Dai Veloze Sta salendo tantissimo l'acqua Ok Se vabbè Se vabbè Dai no È impossibile Moriremo annegati E poi perché mi prendi un pesce Che è inutile Tappami sta roba Tappa No ma che lavoro ci possono fare No è impossibile Dai 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 Ce la possiamo fare Non ne mancano molte Ne mancano solo due Ok L'ultimo Hey ma quel tipo non ha bisogno di respirare No noi siamo campioni di apnea Esatto Cioè maccherti Io lo faccio come hobby Ma che dici Ci alleniamo tutti i giorni nella vasca da bagno Esatto Esatto Perché ci interessa molto diventare campioni di apnea È il nostro sogno Siamo al limite Hai visto la barra viola L'hai vista Eravamo proprio al limite L'ho vista L'ho vista Aiuto Abbiamo salvato tutti però Perché ti faccio notare una cosa Sì Quei pesci erano piragna Cioè ci avrebbero sbranati Avrebbero morso le chiappette di tutti Esatto Esatto Quindi abbiamo salvato l'acquario Comunque io non voglio dire una cosa Ma nostra moglie ci ha lanciato i peluche E se ne è pure andata Cioè io non stavo a leggere troppi dialoghi Perché ero impegnato a salvare la vita di queste persone Però manco a darci delle roe E poi si lamenta che non vogliamo parlare con lei Esatto Cioè come? Sei tu che non ci ascolti Continua così E ce ne andiamo a vivere in una casa nostra Con i nostri stessi e Tommy Guarda Senza di te Perché sinceramente qua non ci piaci proprio Allora il mondo di kelp Cosa dobbiamo fare? Gioca al gioco Come si gioca? Secondo me ci dice Che dobbiamo trovare i posti Allora Afferra il mappamondo Io vi ho il quiz Sono Devi toccare quelli verdi E ho capito però Tipo pac Esatto Esatto Adesso quelli rossi Lo vedi? Quello rosso? Sì ma porca Porca miseria È difficilissimo Cliccamelo Devi Girare Girare Ok calmi Calmi Ce la possiamo fare È lì sotto È lì sotto Lo vedi? L'odio Lo vedi? Odio essere un polpo Non riesco a girare in quel modo lì Ci dovremmo correre come i criceti Secondo te? No Sì No No Sì da polpi ci trasformiamo anche in criceti qui Non ci posso credere Vai vai ce la puoi fare Forza Sto soffrendo fare Credi di essere un criceto e lo sarai Non so forza più che sto gioco Fatto? Cosa fa questo pulsante? Ecco Ecco Grazie Tommy Grazie che non ti fai meglio a fare i tuoi Sei proprio un figlio esemplare Non sai neanche più parlare perché stai girando Esatto Mi sta venendo il voltastomaco Non ti vengono le parole qui Devi prendere quello Sì 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 era giusto Quella cosa rossa devi prendere E come faccio? Tommy vieni a darci una mano No è l'ennesima cosa troppo fastidiosa Allora fai così Acchiappalo No Adesso Step se ne va mi lascia qui da sola Ok che non ho provato i consulini Ma io non l'ho provato questo gioco Non conta nulla la mia provazione No purtroppo no Non conta nulla I consulini sono più di te che sei solo una persona Scusami Sì ma Quindi afferra il kelpe Ma sono proprio io che devo giocarlo È per quello che piace i consulini Perché ridono nel vederti sclarare Così come rido io Capito? È normale È normale Sì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Sono fiera di te Sono fiera di te Combina le spore Di ogni colore Che vuol dire? Dove sono le spore? Opla Opla Oh è bellissimo Opla No No Anna si è giusto Eh ma adesso come faccio ad arrivare all'ultimo? Come dovrei fare? Lancia Una spinta Esatto Esatto Ci sei No Dai Sembrava troppo semplice Uh vai 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 Ci sei ci sei Ne manca una verde Giusto Dai verde Vai 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 Entroci Vai Cosa manca? Sì 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 Andato 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 Andiamo dai Uh 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 Comunque se ci fosse un acquario così ci vorrei andare subito Stiamo scherzando Rimare nella sezione giochi non mi scollerebbe più nessuno Eccoci Ah devo parare? Uh sì Vai Pari il calcio di Tom Ma sei scarsissimo È bravissimo Tommy Guarda i calci che ti tira Ma è Tommy che tira? Sì è Tommy che tira Ma siamo pazzi Aia Vedi gli arrivano queste spore Lui le prende a calci E quindi fa il calciatore in questo momento Ok e adesso? Ok Ce l'ho fatta? Ok Perfetto Bravi bravi Tommy dovresti fare il calciatore Sei molto talentuoso Esatto 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 Io mi vorrei scrollare da qua invece Ok ce l'ho fatta Dai io direi di fermarci così Che se no anche questo episodio dura tipo 42 minuti Una roba del genere Molto molto carino Dobbiamo finire a questa zona dell'acquario Che secondo me ci Diciamo Aspetta qualche sorpresa Pericolosa Eh sicuramente Secondo me torna lo chef Di nuovo che ci vuole inseguire Perché lui lo dovremmo sfidare Ne sono quasi sicura Esattamente Chissà cosa ci aspetta Speriamo che vi sia piaciuto questo episodio È stato davvero carino fare tutti questi giochini Alcuni difficilissimi Anche se hai sclerato tutto il video Non è vero Cioè io lo dico Mi sono divertito molto Non ti stai divertito No mi sono divertito molto Stavi sclerando E volevi abbandonarmi Non ho fatto il pazzo Lo stai facendo adesso Non è vero Non è vero Sono calmino Tranquillino E felicino Bene che ci piace così Se ci succede Lasciateci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao